Se, come spero, le indicazioni accordate mi rispondevano al vero, se sono pervenuto al cielo dei profeti, non è ragionevole sperare che quello che ora mi sta davanti, maestoso ed astratto, altri non sia che il dotto Nostradamus. E posso sperare che ella vorrà accordarmi un breve colloquio? Enea, tapiro elettrico, la che rompe attraversato la grande pista incisa a strada per caviglie e ciance, l'occhiale stolto indaga la sapiente barba, bufera sindacale sul Giappone in crisi, oleosi balzelli domeniche ingrugnite, barba di successo. Perché mai avrò scritto queste fanfaluche? Ma sono cose da lasciare leggere ai posteri, che ci vedranno tutto e il contrario di tutto, se non che ho l'impressione che codeste estrofette in qualche modo mi riguardino. Chi sarà mai questo tapiro elettrico? Senta, mio nobile dotto signore, sono venuto da lontano per un breve colloquio col più fascinoso dei profeti moderni, colui che predisse, presagì, indovinò e scrisse miracolosi, anche se oscuri oracoli. Oppure potrei scrivere a questo modo. Sbugiardato caronte con la scossa, il tapiro senza ali, con le antenne offerta una bocca di metallo, insidia la barba ed il cappello, presente e assente. Se retrocedo intervengo nel colloquio tra di noi, Babilonia interroga Salon passando per Torino via Lessona. A Lima i grassi scendono dal tram, dunque, dunque qui c'è del mistero. Signor Nostradamus, signor Nostradamus, io la vedo scrivere, la vedo parlare tra sé, e dunque tanto assorto da non vedermi in alcun modo, io temo di turbarla, ma così breve è il tempo accordato a noi che varchiamo l'Acheronte. L'Acheronte? Mi sbaglio. Ho sentito parlare di Acheronte. Una voce quassù sta spiando quel che scrivo, forse me lo vorrebbe spiegare. Il punto è, se c'è qualcuno in questo momento che cerca di parlare con me, io nemmeno lo vedo, perché, essendo profetante, me ne sto sempre, come logico, tutto in fuori, per così dire, verso il futuro. Qualche volta me ne sto avanti di anni, qualche volta di ore o di minuti, ma per farmi contemporaneo, bene, devo fare tali manovre che quando sono contemporaneo, il contemporaneo è già passato. E io devo retrocedere di nuovo, e dunque i miei colloqui, ammesso che io abbia voglia di cianciare, sono estremamente difficoltosi, dunque io ho udito la parola Acheronte, e ho detto le parole retrocedo e ciance. Tutto fa credere che qualcuno nel presente cerchi di parlarmi, e che io mi trovi nei dintorni del presente, magari avanti di qualche minuto, altrimenti la parola Acheronte non l'avrei sentita. Ora, retrocedere di pochi minuti pare una bazzecola, ma vuole una mano sicura e penetrante, come infilare un filo in una cruna d'ago. Forse mi conviene tacere per vedere se colgo qualche suono che mi guidi attraverso il tempo. Sire Nostradamus, maestro, non vorrei accordarmi il privilegio di incidere con me umilissimo, ho udito incidere. Non ve dubbio, qualcuno mi ha letto, ho ascoltato, o piuttosto qualcuno mi manda dei messaggi. Ehi là, dove sei? Ma sono qui, mio buon signore, sono davanti a lei. Oh, che tu sia davanti a me, io non dubito, ma io vorrei sapere in quale punto del tempo tu ti trovi. Perché, vedi, io sono un po' avanti col tempo. Riesco a sentirti ora perché, chiotto, chiotto, me ne vorretrocedendo, ma a mio avviso ti sto ancora davanti di un paio di minuti e sento tu che mi chiedi qualcosa sulla fine del mondo che certamente non mi hai ancora chiesto. E allora, se io rispondo a domande prima che tu le faccia, e taccio quando me le fai, io temo che tutto sia per riuscire una grande confusione. Signor mio, io sono di lunedì, alle 18 e 24. Non sento, non sento. Resta fermo. Facciamo così. Tu ripeti sempre la stessa domanda. Ad esempio, non va mai dal barbiere? Appena io ti rispondo, no, mai, sarà segno che sono arrivato, comincia. Ma dillo ad agio. D'accordo, ma essere profeta è una bizzarra professione. E' faticosa anche. Non sento. Continua a ripetere. Lei non va mai dal barbiere? Io arrivo. Lei non va mai dal barbiere? Lei non va mai dal barbiere? Un momento, devo averla oltrepassato. Sei tu che parlavi da Cheronte? Ma è inutile che tu risponda, tanto non ti sento. Adesso riavanzo. Ripeti. Lei non va mai dal barbiere? No, mai. Finalmente siamo arrivati. Ora possiamo parlare. E voglio farti io la prima domanda. Tu hai parlato da Cheronte? Mi pare di sì. Ma non sono sicuro. Sarà stato così, per metafora. No, no. Ti prego, non vergognartene. Io ho scritto una strofetta profetica che mi è oscura e forse mi aiuterai a capirla. Potrei io aiutare lei? Vedi, tu poco fa eri per me futuro, sebbene io fossi più futuro di te. E quindi a rigore dovrei considerarti passato. Ma dal punto di vista di chi vive costantemente nel futuro anche il passato, può colorarsi di futuro, capisci? Vorrei capire. Lei scrive strofe enigmatiche stando nel futuro. Troppo semplice. Per stare nel futuro, come tu dici, io debbo entrarci di traverso, per via di trasposizioni e di metafore. E qualche volta le capisco, qualche volta no. Ne vedo, per così dire, il colore, non la sostanza. Gli uomini non hanno nome, ma delle insegne, delle descrizioni. Gli eventi sono bandiere, enigmi, stemmi che mutano colore. Ecco, quando tu, mio passato, eri anche il mio futuro, io ho scritto due strofette alquanto oscure, ed ora il tuo arrivo mi dà fiducia ad interpretarle. Da dove vieni? Da Roma. Ecco, Enea, ti chiamo. Un narratore neorealista avrebbe cominciato? Un tale che veniva da Roma? Invece io dico tutto e altro ancora, dicendo Enea. Dico che hai fatto un viaggio. Tapiro elettrico, dico qui. Hai a che fare con l'elettricità? Chi mi manda è un'associazione di potenti terrestri che lavorano appunto con l'elettricità. Quanto al tapiro... Ho già guardato il tuo profilo. Ma la pista incisa. Che sia il nastro registrato. In questo modo le voci si riproducono a volontà. Giovanotto, non voglio spiegazioni tecniche. Ecco, il nastro magnetico per incisione ha fatto altresì da strada per barcare la cheronte. Tu hai gli occhiali, sei ovviamente stolto. Io ho la barba e sono saggio. Tu fai domande. Per datare meglio l'evento, ho tratto un titolo da un giornale quotidiano. Bufera sindacale sul Giappone in crisi. Oggi è il 14 aprile. Eh? Mi tengo informato sul vostro secolo. Vedi, i balzelli oleosi costringendo la gente in casa assicurano un tal quale successo alla mia saggia barba. Mi abile esegesi. Figliolo, tu mi hai aiutato, te ne sono grato. Grazie a te ho anch'io un momento di presente.